E' stata quasi un'azione da commandos, quella portata questa notte intorno alle 3 e mezza qui alla filiale della Banca dell'Adriatico di Colleranesco nel comune di Giulianova. Alle mie spalle vedete il Bancomat che è stato fatto saltare in aria da una bomba, praticamente un potenziale incredibile che ha creato dei danni all'interno della filiale, quasi si fosse trattato di un attentato terroristico. Ad agire sarebbero stati in tre, forse criminali in trasferta che in meno di un minuto hanno piazzato il congegno esplosivo che ha squarciato lo sportello Bancomat, consentendo di afferrare il denaro in cassa. Il boato ha svegliato l'intero quartiere. Verso le 4 e meno un quarto ho sentito il rumore, però pensavo che fossero quelli della D che vengono a raccogliere gli immondizi. Finito il rumore ho sentito subito il botto. Mi affaccio al balcone, ho visto un'Audi nera vicino qui al banco, anzi, gli ho detto che cosa state facendo, gli ho gridato. Quelli appena mi hanno sentito stendere, scappa scappa, gli ho detto al complice che stava dentro la macchina. Quanti erano? Io penso in tre. Uno l'ho visto, poi uno stava alla guida, quindi quello non è sceso dalla macchina, e uno stava dietro, senz'altro. Un botto enorme, forse più grande della volta precedente, perché c'è stata un'altra rapina, sempre al Bancomat, qualche periodo fa. Poi ho chiamato i carabinieri, sono uscito nel balcone, c'era una macchina che è partita a tutta velocità. Che macchina era? Io ho sentito solo il rumore delle ruote, del motore, perché non ho fatto in tempo ad alzare la serrana che già era scomparsa. È andata verso l'autostrada, quello è sicuro. Una cosa particolare, che adesso ripensandoci un po' a mente fredda, Appena dopo questo episodio, dieci minuti dopo, diciamo che io ero sul balcone, in attesa che arrivassero i carabinieri, è passata una macchina scura, passava al centro della strada, una BMW, una Mercedes un po' sportiva, diciamo. Beh, è una velocità impressionante. Dunque ci sono dei testimoni che hanno visto, hanno visto anche il modello dell'auto, hanno visto anche la dinamica di questo furto. È stata aperta questa porta e poi sono entrati all'interno dell'istituto di credito, hanno piazzato la carica e poi l'hanno fatta esplodere. Un'ora prima, intorno alle 2.30, la Banca dell'Adriatico, che si trova sulla Tiburtina, a Pescara, stessa esplosione. Le modalità sarebbero uguali a quelle utilizzate per la Banca Teramana. La deflagrazione, che in base ai primi accertamenti sarebbe stata determinata da esplosivo, ha sventrato il locale e non solo l'area Bancomat, creando danni ingenti. Anche in questo caso non è ancora chiaro l'ammontare del bottino, sempre che i ladri siano riusciti a portare via la cassetta del Bancomat. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della compagnia di Pescara e quelli del nucleo investigativo, coordinati dal capitano Scarponi.